Questo per me è un video particolarmente importante, perché la recensione della prima stagione di Arkane fu la prima pubblicata sul canale. Per questo ho deciso di celebrare il ritorno di questa serie tv, alla quale sono parecchio affezionato, essendo da anni un appassionato di League of Legends, analizzando ogni atto di volta in volta, in modo da poterci divertire insieme a teorizzare e sparare congetture su quello che vedremo nel prossimo trittico di episodi. Parlerò quindi sempre facendo spoiler, anche perché non vedo il senso di dividere in due parti questo tipo di contenuto. Com'era prevedibile, questa seconda stagione comincia riprendendo esattamente da dove la storia era stata interrotta. Osserviamo quindi le disastrose conseguenze del razzo sparato da Jinx, ma possiamo subito notare qualcosa di strano. Jace e Mel sono sopravvissuti indenni, mentre gli altri o sono direttamente andati o hanno subito gravi ferite. Era ovvio che non tutti i personaggi presenti alla torre sarebbero morti nell'esplosione. Almeno il trittico più importante, ovvero Victor, Jace e Mel doveva salvarsi, e infatti così è stato, ma il come quest'ultimi non abbiano minimamente riportato conseguenze resta un mistero. Un interrogativo che si pone anche lo stesso Jace, evidenziando la stranezza di tale episodio, mettendo l'accento su quello che parrebbe essere un discreto buco di trama, dettato da uno dei più giganteschi plot armor che personalmente abbia mai visto. Ma proprio a causa di tale sottolineatura, sono sicurissimo che con il proseguire della storia verrà fornita una spiegazione convincente. In caso contrario, potrei alterarmi non poco. Caitlyn pare aver accusato la brutalità dell'attacco più di tutti gli altri, sconvolta dalla perdita della madre e dal senso di colpa per non essere riuscita a fermare Jinx. La serie vuole subito farci entrare in empatia con questo personaggio, mostrandoci tutto il suo dolore attraverso la rappresentazione di un mondo in bianco e nero, con i tratti tipici di un disegno a matita, a distaccare in maniera netta il contesto attorno a lei, come se tutto fosse distante e circondato da oscurità. Un oblio da cui emergono solamente tre volti, quello di sua madre, quello di Vai e quello di Jinx. Una sequenza che ho molto apprezzato dal punto di vista simbolico, meno invece per la sua estetica. Il modo in cui lo stile visivo dei protagonisti si mischia con il resto non mi ha pienamente convinto. Al lutto di Caitlyn viene contrapposto quello di Jinx, sconvolta dalla perdita di Silco, di partita che ha portato il caos nella città sotterranea, ora carente di un leader. In questa nuova, confusionaria realtà, la ragazza vaga sola, senza meta, orfana di tutti i suoi affetti, ritrovando una nuova alleata in Sevica. Riunite dal dolore per la morte di Silco, le due mettono da parte l'astio che nella prima stagione covavano l'una per l'altra e decidono di collaborare, fronteggiando insieme gli attacchi degli agenti di Piltover, capitanati da Caitlyn, guidata in queste retate dall'odio furibondo che nutre nei confronti degli abitanti della città sotterranea. Nel corso di queste prime tre puntate, Caitlyn è fortemente cambiata, non è più la ragazza di sani principi che combatteva per la giustizia. Adesso è fredda, cinica, scossa da improvvisi scatti di rabbia, fa uso della forza addirittura contro esseri deboli o indifesi, disposta a tutto, anche rischiare di sparare una bambina pur di arrivare a Jinx. Un comportamento violento che vi tenta di arginare, allarmata da ciò in cui Caitlyn si sta trasformando, ma che la porterà solo a farsi respingere, rimanendo sola, in preda alle lacrime, ripercorrendo quello che tanti anni prima era stato il destino della sua sorellina. La serie è abilissima nello stravolgersi puntata dopo puntata, contrastando apertamente quelle che potevano essere le aspettative dello spettatore, ma facendolo sempre attraverso una scrittura coerente. Il ruolo dei personaggi viene continuamente ribaltato, le alleanze che si vanno a creare si rompono e si mescolano, restituendo la sensazione che in un istante tutto potrebbe cambiare. Questa costante ridistribuzione delle carte in tavola ha portato alla nascita della già citata coppia Jigs e Vika, all'allontanamento di Victor e Jace con la successiva unione di quest'ultimo a Echo e Eimerdinger, e ovviamente anche alla progressiva follia di Caitlyn, che si sta trasformando nemmeno troppo lentamente in un vero e proprio villain. Arco distruttivo intuito immediatamente dall'agente di polizia ubriacone, unico a non partecipare a quella sorta di rito e allontanarsi silenziosamente dalla scena. Ci tenevo a citare il personaggio perché si è subito conquistato le mie simpatie. Caitlyn comunque non sta affrontando questo percorso da sola. Viene infatti pilotata da Ambessa, vero motore di questo primo atto di stagione. La madre di Mel, burattinaia che tesse la sua tela nell'ombra, muove sapientemente le sue fila, dimostrandosi abile nel gioco del trono addirittura più della figlia, grazie alla sua totale mancanza di scrupoli. Tutto ciò che vediamo in queste prime tre puntate deriva dalle sue azioni. È grazie a lei che Reni riesce ad infiltrarsi con i suoi scagnozzi alla commemorazione, attaccando Jace, i consiglieri e la popolazione, ed è sempre lei ad ingannare Salo per indire un'udienza pilotata al fine di mettere Cait a comando dell'emergenza. Tramite Ambessa facciamo la conoscenza di quello che sicuramente sarà un altro elemento importantissimo nell'economia della storia, ovvero la rosa nera. Al momento non c'è stato spiegato praticamente nulla, pare trattarsi di una sorta di gruppo che pratica dell'oscura magia a cui la madre di Mel deve aver sottratto qualcosa di estremamente prezioso, ma a parte questo tutto è avvolto nel mistero. Personalmente ho trovato l'inserimento di questa nuova fazione un filo confusionario e quasi gratuito. Fanno il loro ingresso attraverso la mercante Amara, un personaggio che già avevamo intravisto ma che non fosse stato presentato con chissà quale rilevanza. Questo mi porta a pensare che gli autori alla fine della prima stagione non avessero esattamente le idee chiare sulla direzione da far prendere alla serie e soprattutto su come trattarla in relazione alla lore che il team di Riot Games costruisce ormai da tantissimi anni. Tutti i personaggi e i luoghi che vediamo in Arkane non sono stati creati ad hoc per questo prodotto, ma già esistevano all'interno di Runeterra, il vasto mondo in cui si ambienta tra le tante anche la storia che vediamo nella serie. Inizialmente gli autori non sapevano se canonizzare le vicende di Arkane con la lore già esistente o se relegarle ad una sorta di universo alternativo, ma lavorando alla seconda stagione hanno deciso che sì, fa tutto parte della solita grande storia. Ovviamente per comprendere Arkane non serve conoscere tutti questi retroscena, è un racconto che può benissimo essere fruito a sé stante, non stiamo parlando della Marvel, ma la sua connessione alla lore ha portato all'inserimento di fattori che nella prima stagione erano stati palesemente ignorati e che adesso devono per forza entrare a far parte della storia, come ad esempio il Grigio, questo fumo nocivo proveniente dalle fabbriche di Zone che teoricamente dovrebbe solo essere una cortina tossica che separa la città sotterranea da Piltover, ma che in Arkane hanno reso più interessante, rappresentandolo quasi avesse una sorta di identità, e ovviamente anche il gruppo della Rosa Nera. Proprio per questo la loro entrata in scena è stata improvvisa, senza che fossero prima costruiti presupposti adeguati e ha conseguentemente gettato confusione in una storia già satura di elementi. La serie segue tantissime sottotrame, tutte ugualmente importanti. Schizziamo con un montaggio serratissimo da un gruppo di personaggi all'altro, senza avere un attimo di respiro. Non facciamo in tempo ad assimilare ciò che è successo in una scena, che subito passiamo alla seguente e vengono aggiunte nuove informazioni. Questo, secondo me, è il più grande difetto del primo atto. Viene messa troppa carne al fuoco, succedono troppe cose, il ritmo è carente di equilibrio, soprattutto nel terzo episodio, che ho trovato veramente caotico. Quello che ci viene raccontato è anche bello. Arkane è riuscito in una cosa incredibile, costruire una storia corale dove tutto risulta interessante. Non c'è il personaggio alla bran del trono di spade che quando vedi su schermo sbuffi preparandoti alla rottura di palle che ti aspetta. Ogni scena è in grado di catturarci e il modo in cui queste sono raccordate tra loro sfiora la perfezione, soprattutto quando seguiamo lo scontro tra Sebica, Jinx, Vi e Caitlyn in contemporanea con Ecco, Jace e Emerdinger alla base dell'ex Kate. La nostra curiosità viene solleticata da ogni elemento, solo che ce ne sono troppi in troppo poco tempo, tant'è che alcuni passaggi risultano poco chiari e scene che magari avrebbero avuto bisogno di maggior minutaggio vengono tirate via, come appunto la presentazione della rosa nera o la separazione di Victor e Jace. In questo infinito marasma di vicende, il rapporto tra Jinx e Vi, perno della precedente stagione, passa in secondo piano. Infatti la carta del loro scontro viene addirittura già giocata nel terzo episodio, e qui arriviamo a un altro escamotaggio che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Non ho gradito il modo in cui lo scontro sia andato a risolvere. Sebbene comprenda il ruolo della bambina, la sua entrata in scena mi è sembrata un Deus Ex Machina troppo debole per consentire a Jinx di salvarsi ancora una volta. Il combattimento è comunque una meraviglia per gli occhi e molto divertente da guardare, perfettamente accompagnato dalla musica. Il modo in cui Arcane utilizza sia brani composti appositamente per la serie che quelli di terze parti è sempre stato uno dei punti di forza di questo prodotto. In generale tutto il lato tecnico è di altissimo livello e curato nei minimi dettagli, anche personaggi meno importanti con un ridotto screen time hanno comunque una loro forte identità dal punto di vista visivo. Mi viene in mente ad esempio Rennie con la sua terribile motosega, la pelle pallida, quel sinistro liquido verde fosforescente che le entra nel naso, veramente spaventosa, ma anche l'altro barone chimico, Smitch, d'aspetto in modi a dir poco grotteschi, ucciso da Semika nel secondo episodio e parlando di quello scontro è impossibile non nominare il nuovo braccio della ragazza, ideato da Jinx. Un'arma che rispecchia perfettamente la personalità della sua creatrice, si vede come i disegnatori si siano divertiti sbizzarrendosi su come realizzare visivamente l'ennesimo folle congegno. Le animazioni della serie raggiungono picchi elevatissimi, soprattutto nelle sequenze più sperimentali, come la presentazione del grigio, che mi ha ricordato quella dei Far Lies nella prima stagione, e la scena alla base dell'Exgate, con quell'imponente runa selvatica che si manifesta davanti ai nostri protagonisti. E visto che siamo entrati in argomento Extech, ne approfitterei per passare alla parte teorie del video. Per chi avesse ancora le idee confuse, l'arcane è pura magia racchiusa in piccoli cristalli, una forza dormiente che può essere attivata in modo grezzo se le pietre vengono stimolate da colpi o urti, come abbiamo potuto constatare nel primo e nel terzo episodio della scorsa stagione. Questo problema è stato poi risolto con la creazione delle gemme, più stabili e sicure. L'arcane può essere controllato attraverso le rune, simboli che, se correttamente combinati, forniscono a questa magia le istruzioni su come agire, un po' come se fossero i tasti di un computer, per fare un esempio più affine con il nostro mondo. Possono però crearsi degli schemi di rune spontanei, che scatenano l'arcane in modi imprevedibili, e queste sono appunto le rune selvatiche. Ma perché questa anomalia si è manifestata proprio nel sottosuolo? Può essere che quel tipo di reazione si scatene ogni volta che l'arcane entra in contatto con elementi organici. Infatti le mutazioni trovate sull'albero di Echo sono le stesse presenti sulle piante che venivano avvicinate all'Excore. Quindi queste sarebbero le naturali conseguenze per tutte le persone che sono state trasportate negli Exgate. E la runa selvatica, definisco così quella strana palla, perché questa è l'etichetta che gli ha dato Echo. Vai a sapere poi cos'è davvero? Sia nata alla base della struttura perché, come spiega Jace, l'energia viene convogliata lì sotto. Questo porterebbe poi alla chiusura degli Exgate, che infatti non sono presenti nella Lord di Runeterra. Una seconda ipotesi è che la causa di questa anomalia sia sempre Victor. D'altra parte lui è l'unico soggetto a cui l'arcane abbia reagito spontaneamente, e in una scena della prima stagione abbiamo visto come una volta lo scienziato abbia sputato del sangue nell'Exgate. Chissà quindi che non sia stato proprio questo dettaglio a scatenare la nascita della runa selvatica. In queste prime tre puntate, due per la verità, dato che nella terza non lo vediamo proprio, Victor si è trasformato in una sorta di messia, in grado di curare le persone mutate dallo Shimmer. Una cosa positiva, almeno sulla carta, ma che sicuramente rivelerà a tempo debito la sua natura sinistra. D'altra parte è ormai chiaro come di fatto il vecchio amico di Jace non esista più e le reali intenzioni dell'arcane restano un mistero. Come è un mistero? Quali siano le intenzioni della rosa nera? Sappiamo che vogliono ostacolare ambessa, e possiamo intuire che per fare ciò sfrutteranno Mel, rapita sul finale del terzo episodio. Credo che la consigliera si trovi adesso in una sorta di limbo, in cui questa setta comunicherà con lei cercando di portarla dalla propria parte per ideare una trappola per la madre, oppure Mel verrà addirittura posseduta e comandata a bacchetta. Abbiamo intravisto anche questo potere rientrare tra i talenti della rosa nera, ma visto che tale pratica sembra lasciare tracce fin troppo visibili sulle vittime, propenderei per scartare questa ipotesi. Ciò di cui sono sicuro è che questo misterioso gruppo ha sicuramente un piano preciso e definito, e magari parte di esso era proprio fare in modo che ambessa arrivasse a prendere il controllo di Piltover, e il tentato assassino non è stato altro che una mossa per spingerla in quella direzione, manipolandola come una qualunque pedina, esattamente al pari della povera Caitlyn, che ha ormai definitivamente scapocciato e abbracciato il suo ruolo da novella dittatrice. Nonostante questa momentanea follia, sono piuttosto sicuro che la ragazza avrà il suo arco di redenzione e finirà per ribellarsi alle angherie di ambessa, riavvicinandosi a Vai, che, per chi ha visto il trailer della seconda stagione, sappiamo trovarsi adesso a combattere per denaro in un'arena della città sotterranea. Il suo destino è comunque quello di rientrare nel corpo di guardia di Piltover. Adesso è difficile immaginare come, ma secondo me sono solo due le strade che la porterebbero verso quel percorso. Combattere ambessa insieme all'unica guardia che ha voltato le spalle al regime, o unirsi a Jinx, che dopo aver realizzato, grazie al comportamento della bambina di poter essere importante per gli altri, guiderà il sottosuolo nella guerra contro la città del progresso, riunendo tutta la sua gente sotto un'unica bandiera, alleandosi anche con i Farlights e quindi con Ecco. Abbiamo potuto notare ancora una volta come le due sorelle siano incapaci di uccidersi a vicenda. Jinx, dopo aver rivisto Vai tra i fumi del grigio, invece di spararle, scappa reagendo esattamente come fece Powder tanti anni prima, quando rimase sola in seguito al rapimento di Vander. E Vai, alla fine del combattimento nel terzo episodio, avrebbe potuto tranquillamente staccarla dalla bambina e lasciare campo libero a Kate, ma non lo fa, preferendo frapporsi tra lei e la gente. In più penso che in quello scontro Jinx volesse rimanere uccisa proprio per mano della sorella, e le esplosioni colorate in superficie sarebbero state un'uscita di scena degna del suo stile. Come testimonia quel no urlato quando la bambina punta la pistola contro Vai, e quell'interrotto non doveva quando Sevica attiva la trappola. Per quanto riguarda invece la sopravvivenza di Mel e Jace, loro sono sicuramente stati salvati da una sorta di congegno indossato da Mel. Prima dello schianto del missile nel nono episodio della prima stagione, l'oro sulla schiena della consigliera si illumina in modo sospetto, l'uccichio che poi apre anche questa seconda stagione. Il collegamento mi sembra abbastanza evidente. Non so se quella sia proprio un'abilità di Mel o del suo diciamo vestiario, ma penso che lo scopriremo. Credo però che lei sappia perfettamente cosa li abbia salvati, ma abbia comunque voluto tenerlo nascosto a Jace. Prima di tornare a parlare di Echo, che è un po' lasciato in sospeso, vi dico che da adesso le teorie si fanno più fondate, quindi c'è la possibilità di incappare in qualche piccolo spoiler. Io vi ho avvertito, ora temerari avanti con me. Possiamo infatti notare in uno dei poster di Echo della seconda stagione un dettaglio che lo collega chiaramente a Jinx. In più sappiamo da League of Legends che il personaggio sfrutta l'arcane per manipolare il tempo, peculiarità che sembra appartenere alla runa selvatica. Possiamo quindi dedurre che Echo capirà come utilizzare il potere dell'anomalia. Ci sarebbe poi la questione Singed, è ovvio che lui stia sperimentando sul corpo di Vander, che verrà poi trasformato in Warwick, la cui apparizione arriverà già in questo secondo atto, e lo vediamo addirittura scontrarsi con Vai. Sempre attraverso League of Legends sappiamo che Warwick conserva una parte di coscienza umana, quindi sarà molto interessante scoprire come interagirà con le due sorelle. Vi saluto riportando alcuni easter egg presenti in questo primo atto. Il Robo Bestia, nominato dal Donger mentre fa il matto nei condotti dell'Accademia, esiste realmente ed è uno dei mostri che possiamo trovare nel gioco, esattamente come il lupo a due teste cacciato da Singed. Lo spirito del vento citato da Jinx che protegge gli abitanti del sottosuolo da il grigio non è altro che Gianna, uno dei campioni di LoL, e a proposito di campioni, l'inserimento della rosa nera significa che anche LeBlanc, capo di questa organizzazione, sta partecipando alla festa. Direi che possiamo salutarci qui, ci vediamo con la recensione del secondo atto.